Mi farebbe il favore di alzarsi e andare in fondo alla classe e leggere ad alta voce quella targa che vede appesa al di sopra della porta? Sono... Sono Sutruk Nahunte... Eccellente, un po' più di voce? Sì, signore. Sono Sutruk Nahunte, re di Asciame di Susa. Sovrano della terra di Elam. Ho distrutto Sipar e preso la stela di Naran. Stele. Preso la stela di Naran Sin e l'ho riportata a Elam dove l'ho eretta come offerta al mio Dio. Sutruk Nahunte 1158 a.C. Molto bene, signore Belaite, grazie, può tornare a sedere. Sutruk Nahunte. Qualcuno ne ha mai sentito parlare? Potete consultare i testi. Ma non ne troverete traccia. Sutruk Nahunte. Sutruk Nahunte, re, sovrano della terra di Elam. Distruttore di Sipar. Ma incredibilmente le sue imprese non compaiono in nessun libro di storia. Perché? Perché le grandi ambizioni e le conquiste, senza nessun apporto costruttivo, sono prive di significato. E voi, quale sarà il vostro apporto? In che modo la storia vi ricorderà? Sutruk Nahunte è stato dimenticato. A differenza dei grandi uomini intorno a voi, Aristotele, Cesare, Augusto, Platone, Cicerone, Socrate, giganti della storia, uomini dal profondo carattere. Uomini le cui imprese grandiose hanno superato la loro stessa esistenza e sopravvivono tuttora nelle nostre vite. La loro storia è la nostra storia. Io sono il signor Andert. Benvenuti al corso di storia civiltà antiche, i greci e i romani.